Esulta Donald Trump per l'accordo che in Nord America sostituisce il NAFTA. Dopo i programmi bellicosi degli ultimi mesi si ritrova la via del dialogo, cioè del business. Abbiamo negoziato questo nuovo accordo basato sul principio di equità e reciprocità. Per me è la parola più importante nel commercio perché siamo stati trattati così ingiustamente da tante nazioni. L'accordo governerà circa 1,2 trilioni di scambi, il che lo rende il più grande accordo commerciale della storia degli Stati Uniti. Si tratta di rapporti di buon vicinato, ma il premier canadese manifesta un entusiasmo più contenuto. Quando verrà approvato questo accordo, il NAFTA, verrà preservato, aggiornato, modernizzato, stabilizzato per il XXI secolo. Ciò significa che i lavoratori canadesi e le loro famiglie godranno di maggiori opportunità rispetto al passato.